le parole del sindaco fiorentino sono risuonate fino a roma scatenando un putiferio di polemiche ai vertici del nazareno e tra i fedelissimi romani del segretario zingaretti si cambia davvero o si rischia l'estinzione il pd sta diventando il partito dell'establishment autoreferenziale lontano dal paese reale e legato all'apparato romano in cui comandano esclusivamente le correnti a dirlo a il sindaco di firenze dario nardella in un'intervista rilasciata al quotidiano la nazione parole pesanti arrivate tanto forti e chiare a roma da scatenare la lite sui social scusa dario nardella ma oltre a questa serie di accuse e offese alla borghezio della prima ora cosa proponi esattamente tuona dalla segretaria nazionale il romano marco miccoli ma capiamo meglio nardella contesta l'alleanza con il movimento 5 stelle che se è vero non esiste più a palazzo chigi esiste nei progetti presenti e futuri dei due schieramenti basti pensare all'intergruppo pd leo m5s da poco costituito in senato una prova di quel polo progressista che tiene dentro democratici e pentastellati per molti unico antidoto per battere la destra per molti ma non per nardella e per altri sindaci del nord da giorgio gori a stefano bonaccini che in più occasioni hanno mostrato insofferenze di varia natura nei riguardi dell'esperimento giallorosso e che in fase di piena crisi di governo erano propensi a un conte ter che aprisse al centro recuperando prima di tutto i renziani e a forza italia una maggioranza ursula intesa come quella larga alleanza che nella commissione europea guida da ursula von der leyen tiene insieme conservatori e progressisti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti